Sono Elisabetta Manetti, faccio gioielli, il mio laboratorio si chiama Oro E e si è fermato il 10 marzo. Sono un artigiano orafo, un artigiano non può fermare le sue mani ed il suo cervello non può arrestarsi smettendo di coordinarsi con le mani nella creazione di cose nuove. Mi sono ritrovata in eredità un'enorme quantità di tempo rispetto al mio quotidiano, allora non posso fare gioielli. Posso però in questo tempo sospeso guardare fuori dalla finestra il mutare delle stagioni, ascoltare musica, leggere, stirare, rimettere a posto i miei vasi di fiori, rimettere a posto gli armadi, preparare dolci, giocare con la gatta, praticare yoga, ritrovare i miei acquerenzi, gioielli, riprendere il progetto di carta pesta, ascoltare il silenzio, affondare le mie mani nella pasta di pane per preparare pane o babà al room. Non posso fare gioielli ma loro sono sempre con me e torneranno ad essere prioritari. Per questo periodo sono sospesi per sperimentare su altre materie con calma, senza fretta, cercando di usare bene questo tempo sospeso. A presto, oro e!